di Laga in Lecce a Corrotone e torna la vittoria in trasferta. La giornata amara invece per Carboni che oggi festeggiava la panchina numero 200 tra i professionisti. E' il Lecce che si porta in avanti con un contropiede rapido di Tiribocchi che si presenta solo davanti a Soviero che però para. Errore gravissimo di Tiribocchi che non sfrutta l'occasione. Ma sarà l'unico errore di questa partita per l'ex attaccante del Chievo che subisce un netto fallo da parte di Fusco ammunizione per il difensore centrale sarà pesantissima mentre c'è un colpo di testa di Giampaolo di poco al lato 384esima partita per lui in Serie B. Altro fallo di Fusco, seconda ammunizione da parte di Romeo, secondo cartellino giallo, espulsione, trentesimo del primo tempo e da questo momento il Crotone va in difficoltà, resta in inferiorità numerica. E poi c'è un'occasione per il Lecce, la conclusione di Giuliano. Ancora la squadra di Papadopulo, cross, colpo di testa di Tiribocchi e guardate che errore commette Soviero che apre la strada alla vittoria del Lecce. L'abbraccio dei compagni per Tiribocchi, questo è il suo quarto gol in campionato con la maglia Salentina dopo i tre gol segnati nello stesso campionato in questo con la maglia del Chievo. Eccolo qui il colpo di testa ma vedete anche l'errore grave di Soviero. Altra conclusione del Lecce, non ci arriva Tiribocchi e finisce il primo tempo. Ripresa con Espinal in campo nel Crotone in sostituzione di Giampaolo ma è ancora in avanti la formazione di Papadopulo, il cross, l'errore di Zamboni, la girata di Tiribocchi, seconda rete, 2-0 Lecce e qui la partita si fa davvero dura per i padroni di casa. Ripetiamo il cross di Giuliano, l'erroraccio di Zamboni, stoppa Tiribocchi che poi da pochi passi batte ancora una volta Soviero. Valdes entra in area, cross dall'altra parte, arriva ancora Vives, parata questa volta di Soviero in corner. Ci prova il Crotone, il contropiede rapido, questa volta è Sedives a liberare Espinal. È il gol del 2-1 per il giocatore di Santo Domingo che momentaneamente riapre la partita. La posizione regolare è quella di Sedives, è il primo gol in campionato per il giocatore dominicano. Rivediamo Sedives, il suo sinistro che appoggia la palla facile facile per il gol di Espinal, 2-1. Ma il Lecce raggiunge subito la terza rete, ancora una volta con Tiribocchi, tripletta per lui. Sesto gol allora in questo campionato, vedete il tocco di esterno, molto bello il Valdes, lo stop e poi subito di prima intenzione Tiribocchi batte ancora una volta il portiere avversario. Vince il Lecce 3-1 allo stadio.